Inizia la nostra seconda giornata a Londra, c'è questa leggera pioggerellina un po' vaporizzata. Ieri abbiamo preso il nostro primo taxi, oggi prenderemo il nostro primo autobus. Ci sono in programma un sacco di cose interessanti, Soho, Saville Road, Sketch, tanti piccoli angoli di Londra che non ho mai visto e sono curiosa di conoscere. Quanto sono belli i bus a due piani, sono bellissimi. La fatta che scendere dai pullman inglesi è la cosa più difficile del mondo, quando si riesce a stare in equilibrio. Che difficoltà! Tanto c'è anche uno schermo che fa vedere le telecamere dislocate nel bus e forse siamo fortunati e ci siamo anche noi. Sì, ci siamo anche noi! Vabbè ragazzi, il fashion a Londra, cioè gli stili che si vedono a Londra, la gente che si vede qua è incredibile, non si vede da nessun'altra parte. In tutto questo ci siamo trovati di fronte a una delle gallerie più famose della città, Burlington Arcade. È bellissima, facciamo una passeggiata e tra l'altro davanti c'è un negozio di La Durée, Paris, che è una colata lavica di oro. È una galleria immersa nell'oro. Mulberry fa delle borse spettacolari, soprattutto quella con il catenaccio rosso multicolor. Questa qua, bella! Tutte le donne amano Manolo Blanich, qua hanno una vetrina incredibile. Questa galleria mi piace molto perché è un tuffo nella moda e tra l'altro quelle scarpe le ho anch'io, non quei tacchi, quelle che non si vedono. Oh oh oh, I just feel it's gonna do... Anche oggi continuiamo con lo speciale porte. Guardate che bella questa porta. Primo appuntamento della giornata, Saville Bro, andiamo da Holland & Sherry, molto famosi per la produzione di tessuti. Quindi andiamo a scoprire qualcosa di più del loro mondo. Che busticino normale. Questo è il mio primo vero tè inglese e ci metto anche il latte. è molto forte, però il latte lo addolcisce un po'. È la prima volta che bevo il tè con il latte. È buono. Abbiamo scoperto in 1836 in Londra, da hollandosi. Abbiamo scoperto un prodotto in Scotland, in Peebles on the Borders, in cui abbiamo ancora le operazioni lì, dove tutto il nostro clopo è designato. Abbiamo scoperto in quanto riguarda l'allogliette. Abbiamo scoperto in tutto il nostro paese. Abbiamo scoperto in tutti i paesi che noi vendiamo all'interno del mondo. Abbiamo scoperto in tutto il mondo. È ovviamente l'hollandosi e l'hollandosi. È stato trovato qui. È un di più importanti locazioni per noi. Abbiamo anche un compagno globale. So we have offices all around the world, for instance we have New York, which deals with the whole of North America and Canada, Mexico, which deals with South America, Australia, Dubai, Shanghai, Paris, Madrid, Milan. So we're a global company and we ship our cloths worldwide. We also own two mills, one of which is up in Yorkshire, which is famous for its fabric weaving, and then we also own another mill which is based over in Chile. So we offer a variety of cloths, which I was informed yesterday during our sales meeting has now got up to 5,100 patterns we currently have in our collection. So many. So you can find everything at Holland and Sherry. We notice a trend in certain things, a lot of it is dictated sometimes to do with what's been in film and theatre, for instance a big thing for tailoring was Kingsman. This is in our masquerade range, so... Well, this is really unusual, it's not very traditional, it's not... Exactly. I mean, it's something we've had to move into for film and theatre. Yeah, really nice. And I'll show you the snakeskin ones as well, so you can see those, they're really interesting. Thank you, wow. I love this green, it's so beautiful. Green is such a huge colour as well, you know, especially with St. Patrick's Day we've just had. So you can see here we've done like a snake skin. Yeah, so we offer books as well to give inspiration to people. We offer a signature cloth as well where you can have your name in the self-strike of the suit. No way. Yeah, and as well as that we offer like premium cloths, like cloth with blue sapphire particles in. Okay. We've done one recently with a silver finish to it, so we've got silver particles in there and also a black pearl particle. People want something that hardly anyone else has, and then we also offer the world's most expensive cloth as well. So this is the most expensive cloth in the world. We only offer three patterns on it. A black, a navy and the natural colour here. Here it is. The Vikings is the actual animal. We only use the underbelly so that you can see it here. It's only from Peru. It used to be the flock of the king. We're only allowed to farm so much of it a year, but this is why it makes it the most expensive cloth in the world, and I mean the handle of it is just incredible. Four thousand pounds. Okay. A meter. Okay. So yeah. Yeah. Not everyone buys that one. You can imagine. The stereotype is an older gentleman. Yes. Within, you know, within tailoring or within weaving, but we've got apprenticeships now up in Scotland. I mean our weaving shed where we're really trying to build the future of weaving, so... We've got to go to Holland and Sherry where we've had the opportunity to talk to Drew, a person who's really interesting and really nice. We've got to talk about Spice Girls and the fabric. As you can see, the time has changed. So, from the rain and the wind, we've got to the wind and the wind and the wind. We've got to go to the wind and the wind. I hope we can keep it, because I like this London luminous. The next stage of our trip is the atelier di Jenny Peckham, dove forse indosserò degli abiti da sera. Siamo arrivati da Jenny Peckham, abiti da sposa e abiti da sera molto esclusivi, direttamente del suo atelier. Siamo qui entrati nell'atelier, nella boutique di Jenny Peckham. È incredibile, sembra, di trovarsi in un posto da favola. Ci sono degli abiti meravigliosi, forse più tardi potrò provarne uno. La boutique è molto luminosa, bellissima, dà una sensazione molto accogliente. Vi facciamo fare un giro per farvela vedere e per farvi gustare questi vestiti da mille e una notte. meravigliosi è il fatto che siano tutti ricamati a mano dà un valore aggiunto a questi abiti, quindi se pensate che tutti questi diamantini e tutte queste paillettes sono state cucite da persone che hanno lavorato in modo certosino su un abito del genere, potete apprezzare il valore di quest'opera, perché di un'opera si tratta. Il tipo di abiti hanno anche dei prezzi accessibili, si parla di dai 3.000 pounds, quindi sono comunque abiti unici e realizzati praticamente su misura. Quello rosa. Dio, meraviglia. Questo è il mio secondo preferito. Molto pop, mi rispecchia. Io non sono una di quelle ragazze che ha la fantasia del matrimonio, non ci ho mai pensato, non mi è mai sembrato essenziale. Però vedendo questi abiti, io ovviamente voglio sposarmi. Guardate questo. Oddio. Questo è il mio preferito. Voglio assolutamente indossarlo una volta nella vita. La parte superiore è meravigliosa, ricorda un'armatura, mi piace tantissimo. Sto facendo uno shooting con un abito da principessa, è una sensazione incredibile. Sono qui con 5 gradi nel centro di Londra e l'abito è meraviglioso, non me lo voglio più togliere. Dopo gli abiti scintillanti di Jenny Peckham, adesso andiamo nella boutique di Walker Slater, famosi invece per uno stile molto più compassato ed elegante e un po' più sobrio. Andiamo a visitarli. Abbiamo appena parlato con Mr. Walker, un tipo fighissimo, molto elegante, ma con quell'attitudine british che ci piace un sacco. Cambio di look, ho indossato un Total Look Walker Slater. Il capotto è meraviglioso, mi piace un sacco, ha un taglio stupendo. È il mio berretto alla francese, gonnellina, camicia e denim e sono pronta per la Scottish Way. È molto tipico e sono quelle piccole boutique che incontri nelle vie di Londra e che già dall'esterno ti colpiscono per quanto sono tipiche local. I vestiti sono bellissimi, non me li voglio più togliere. Voglio tornare a casa con questi. Quindi una velocissima overview di Walker Slater che ci hanno molto gentilmente accolto in quella che è la loro casa. Sono stati super carini e ci hanno anche lasciato dei piccoli ricordi. Questi sono i contenitori per il whisky, ovviamente personalizzati con i loro tessuti scozzesi, sono fantastici e a me invece hanno gentilmente regalato un berretto di pura lana scozzese. Quanto mi piacciono i berretti? Tantissimo. Oddio, finalmente lo vedo. Questa è una delle location di Londra più fotografate, è un posto incredibile. Il mio look di oggi è un total look underground e finalmente andiamo a vedere il loro negozio qui a Soho, che è una zona di Londra finissima dove si respira arte, particolarità e anche un po' di stronezza. Andiamo a vederlo. Underground è una marca britannica, indipendente e specializziamo in la subcultura luxe e vogliamo propagare la storia di religione in l'Englande. Ci siamo più famosi per la Creepa. In 1981 abbiamo in manchester e nel 1987 abbiamo avuto la nostra scuola originale. collection, che included the Creepa. Cosa separata noi è che abbiamo avuto con le diverse solheites di Creepa e nel 1990 siamo famosi per avere un triple sol Creepa. Il miglioro trend è il Tartan e perché ci siamo molto interessati per la nostra britannica e la subcultura, ciò che è importante con il Tartan è che è rebelliato, anche il Tartan è stato tradizionale. Quindi abbiamo abbiamo il Tartan Creepa che ci siamo più conosciuti, e per quanto riguarda ci siamo trovati, abbiamo il Tartan skirt e il Tartan berri e Tartan e il Tartan. E'altra cosa che siamo molto conosciuti per le trend è il studded di fare le tante. Abbiamo fatto studded le tante e abbiamo fatto studded le tante abbiamo fatto studded le tante e nessuno ha fatto studded le tante anche noi, per quanto riguarda ci, per quanto riguarda ci. iniziare le tante iniziare le tante e buona